ciao a tutti io sono frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo tentativo di fuga su edis mi alzo un po il volume delle cuffie ok non ricordo cosa stessimo facendo esattamente perché da un po che non gioco vediamo un pochino comunque presumo di aver già parlato con tutti sì avevamo già parlato abbiamo 39 gemme no 38 gemme 39 tenebre 16 chiavi e 16 chiavi quante ce ne servono per sbloccare il nuovo potenziamento nello specchio non mi ricordo adesso guardiamo 30 ok siamo al 25esimo tentativo di fuga non ricordo se ho già scelto le armi ok no allora possiamo dopo un attacco speciale può riunirti alla lancia con uno slancio fuoriente premio y per scatenare la specialità della tua arma danneggi nemici lo proviamo anzi vediamo un pochino proviamo la lancia da un po che non lo usiamo sembiante di achille vediamo colpire molto rilascia ah figo ma faccio danno si faccio danno dai si può fare proviamo sembra interessante speriamo di ricevere dei doni utili eccola qua Demetra subito non male va bene quindi il tuo attacco mi sarà molto utile non ho niente da sbloccare qua dire di prendere l'attacco a garage e le nemici ok tenebre speriamo che questo tentativo di fuga vada bene o almeno riusciamo a sbloccare qualcosa interessante lo posso usare anche per spostarmi ok ne manca uno qui tenebre 12 solo potenziamento vabbè dai lo prendiamo sono un po' raffreddato quindi purtroppo la voce è quella che è spero che non sia un problema ok è abbastanza facile per ora 56% di danno una chiave è quello che ci serve ce ne servono 30 giusto quindi dobbiamo ancora farne parecchie ok ok gli strassatori una chiave c'è il caos vita non mi serve vendiamo di monete dobbiamo pensare a lungo termine perchè se arriviamo da caronte con un bel po' di monete non è male ok attenzione ok ahia ho preso danno perfetto aggiornato forse ho ucciso molti di quei mostri gaspar di quelli incantatori soldi 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 saranno 10 ah 15 non è male è vero che ho aumentato con con lo specchio è preso in pieno gemme 6 vediamo un po' cosa ci può offrire è vero che ho aumentato con il tuo attacco ha portata maggiore no abbiamo questi due il tuo attacco rotante si ricarica e torna disponibile molto più in fretta beh prendiamolo un altro pezzo di profezia è stato compiuto fermo bene dioniso cosa deve darmi si mi ha già aiutato dammi il lancio tu beh si lancio no voglio il lancio mi ha sempre aiutato avrei preso due vite in più vabbè pazienza dai non potevo saperlo ecco i danni che che ricordavo mettere questo lo utilizziamo no direi di prendere la chiave ok eliminati eh fate da bravi due chiavi vito soldi soldi vita abbiamo 150 quindi non ci manca diciamo ho preso dalla trappola ok wow non male eliminiamo questi i residui attenzione le trappole ok 100 monete posidone potenziamento posidone posidone ci aiuta sempre ok se mi seguono si prendono anche danni attenzione alle esplosioni vieni qua cosa ci dai posidone si anche perché vogliamo fare un po' di completismo in questo gioco quindi ci aspetta ancora un bel po' facciamo così caronte per forza no io niso caronte lo teniamo da parte per ora buh non male beh è il momento di prenderlo possiamo pescare mi imbroglia sempre mi imbroglia sempre i pesci saranno difficili da fare che c'è no vedremo vedremo pizzica raggiolarli è utile come rinforzi eccoci qua ho sbagliato a tasto prendi questo smetti di schivare tutto non dovevi far saltare in area lui ma va bene lo stesso dai ehi 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 calmati eh ok eliminata devo riprendere un po' la mano ho preso molti danni 50 60 saliamo cosa non è male a chi non ho dato i doni Zeus l'ho dato a Poseidone no uh Poseidone e Atena no eh va bene rimedieremo subito scopri di più scopri di più accedendo a quest'area 50 volte ok potenziamento e basta cosa potenzio mi sembra che forse mi commega potenziare come sempre Dioniso no questo è pericoloso in questa zona ok perfetto non male lancio Poseidone così gli diamo anche il nettare sperando che non siano troppo cattivi con me no li faccio malino ok attenzione a cose che pietrificano ok offriamo conchiglia pelagica va bene adesso vediamo cosa fanno dai facciamo lo scatto conchiglia 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 non me lo dice a quanto pare no allora caronte no gemme andiamo su gemme next island teoricamente dovrebbe darmi il doppio di gemme no sono loro bene in realtà si è un bene mica pericoloso ok ok dai zeus si posizionano insieme possono fare del male sperando che mi diano dei doni combinati ok ok attenzione uno due tre lei dovrebbe essere morta Ok Ciao ciao Eeeh Sì Eh dai Mi servirebbe Acqua Beh invocazione Chiavi Uh non male Come on you Eh Ok Cosa cosa ha questo predict Ha fatto una mossa predict Stranissima L'ha sparato dove voleva lui Ma era il punto giusto Ancora Ok Chiave Beh mi potenzia i doni no Invece che uno Posso potenziarmene due o tre random Non è male A lei se non sbaglio Non gli ho dato neanche un Sì lo so Grazie Cosa ridi Ok Tieni È arrivato un gatto Come sempre Grazie Ora conversiamo Che mi servono Due servigi Ah sì Che l'ho Va bene Grazie Dai Puntiamocela Caronte Quindi siamo Siamo già arrivati All'idra Anna forse c'è la barca Ora Ciao No Certo Ok Perfetto Abbiamo ancora un po' di soldi Ed eccoci qua il boss Beh sì Diciamo di sì Forza Ok Chiamiamo i tuoi amichetti Che vengono distrutti Come te Attenzione Ho preso danno Uno Due E tre Pizzica Pizzica Due in uno Ok No Elimina questi cosi Via Fuori dai coglioni Troppo corto Direi non male Due Due Tre Pizzica Eliminiamolo con l'invocazione di Zeus Mi dovrebbe dare cento questa no? 120 Non male Ebbè 60 120 Ok Stiamo proseguendo abbastanza bene Vediamo Quando affronti i boss di ogni regione infernale Subisci Zero danni dai primi tre attacchi nemici Uuuuh Ma funziona anche con Ade? No perché non è una regione infernale Siamo già fuori A cui non sono mai stato con la lancia Questo? Vedalo Chissà se è un dono lo stesso Cioè penso di sì Alla Alla Ok Non male Il tuo tacco rotante Vilege 125 danni Il tuo tacco scattante colpisce tre volte Ma la protetta del tuo scatto è ridotta del 25% Beh si Non male Ah i tuoi prossimi due doni Dura ancora quindi questo non era un dono Vita monete Direi vita Mi serve comunque della vita Se arrivo fino ad Ada e con questa poca vita mi bisciotta Ok Vale Perfetto Attenzione all'arco Vieni qua dove stai scappando Ok Grazie Devo rischiare Sono due doni potenziati Dai proviamo No Diciamo questo Eh lo so Ti voglio tanto bene Dioniso Però purtroppo Zeus è forte Non che tu non lo sia Però Allora Aiaiaia Attenzione 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 Sì Statico una malina Basta 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 Grazie Mi hai quasi ucciso Sì No Bene qua In caso sono vericolosissimi Quattro capino Un HP Pazzo di farfalline maledette Peccato Sì Certo Non male Caronte Ok Il tuo attacco e attacco speciale sono più potenti per i primi 10 secondi Potenziamento Ci potenziamo alla schivata tua matica Ah sì Ciao Certo 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 E' bravo Te la cavi eh Ok abbiamo vinto E' no Mi servirebbe Vabbè Diciamo l'invocazione a questo punto Dove sei Thanatos Grazie Grazie Beh sì Direi di prendere soldi Ok Ok Eh Ho danni ad aria Molti eh 100 monete Potenziamento Potenziamento Faccio malino 600 600 Ok Delizioso Direi di sieco perché sto facendo così male Perché lo scatto Che sbalza via i nemici Quindi sbalza via i nemici E prendono la saeta Lo prendo Dai lo prendo Non è male Vediamo un pochino cosa riusciamo a fare Sempre prima Abbiamo visto Teseo Veramente vi ho battuto Però Eh in realtà non mi ricordo l'ultima volta Certo Perché sono dei Va bene Va bene Va bene Ok Baccati questi Attenzione ai danni di Asterio 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 Eh no Mi ammazzano Mi ammazzano Ok Attenzione ai danni di Asterio Attenzione ai danni di Asterio Attenzione ai danni di Asterio Attenzione, attenzione, attenzione Ok Ce l'abbiamo fatta Grazie Però non abbiamo più vite Direi a questo punto di prendere il dente Ok Andiamo Penso di aver sbagliato Bene, ora dobbiamo fare attenzione al veleno No, non avrei dovuto usare i soldi Sono un idiota Allora Vediamo le cose prima più facili da prendere Uno Ok Due Tre Ok Ok, non è ancora spawnata Penso che lì c'è la trappola Ecco, infatti Ok Ok Perfetto Le tue scariche infliggono danni in un'area più ampia Usciamo Potenziamento Ok, uno Due Due Tre Tre Devo anche riempirmi la vita al massimo Ma facciamo attenzione a non prendere danno A caso Ok Ok È morto È morto Sì Ok Ok Un bacio Un bacio Ok Scatto 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 Attenzione Attenzione Faccio male Faccio male Un bacio Un bacio Parfetto Un bacio Un bacio Un bacio Un bacio Un bacio Attenzione, attenzione, attenzione Non c'è fretta Ok Ora cosa mi dai? Vino, il tuo lancio esplode Lasciando neve e infliggendo giallo Uh Cosa? Tutto non si sta combinando Non male Come posso non prenderlo? Soldi? Beh, andiamo di soldi Un culo Ho preso un po' di danno A caso È velocissimo Minchia Ok, grazie Ecco speciale, scatto Siamo pronti? Cerberus confitto Sta bene Per fortuna Dai, vediamo Dobbiamo stare solamente attenti Al raggi di esplosione degli scheletri Per il resto Abbiamo una buona possibilità Vedi, amo Ok Signorada, hai facciata bravo Aia No Volevi togliermi un pochino In capo per gli strassatori Dai Dai Attenzione No Datemi cibo Datemi cibo No Che paura Pericolo No 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 Cazzo Dai Dai Ti faccio male? Oh 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 Attenzione Maledetto No 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 Cazzo No Dai Ti prego Mori Sì No No Che paura Che paura No Non è finita Scusami Scusami Abbiamo fatto progressi Però Cazzo 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 certo ciao non è male possibile ok Orfeo non c'è perché sto ascoltando io scusami va bene va male due chiavi per 20 gemme non è male dai prendiamo il sangue di titano non ho niente da dare allo chef quindi proseguiamo mi servono i diamanti devo arrivare lì con mille c'è poco da fare proviamo tutta questa roba si può sbloccare vedremo ok queste robe servono assolutamente non so cosa sia quello padrone del fatto un'occasione di alterare casualmente la ricompensa della prossima camera beh non male si spera ok adesso vediamo se sblocchiamo anche achievement ok mi serve un'altra fuga dalla morte quindi la prossima cosa da fare sarà quella si ok ragazzi io devo salutarci qua e ci vediamo al prossimo episodio col prossimo tentativo di fuga ciao a tutti se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un mi piace noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti